Buonasera a tutti benvenuti in 4Rpads una nuova presentazione di 4Rpads oggi è 18 aprile martedì sono le 22 e 10 circa è una presentazione di 4Rpads non durerà più di 12-15 minuti 4Rpads è un circuito di marketing e pubblicità globale il mio nome è Kijer Moragliardi sono affiliato di 4Rpads come tutti voi e vi do il benvenuto a questa breve presentazione dell'opportunità del business di 4Rpads cos'è 4Rpads? FAP è una piattaforma di pubblicità per utenti e commercianti di aziende che vogliono annunciare i propri prodotti o servizi inoltre 4Rpads condividono una elevata percentuale del proprio fatturato con i propri clienti attivi che acquistano packs di commissioni condivise le chiamate anche packs il proprietario è il signor Pedro Ford dietro c'è il Ford Marketing Group il Ford Marketing Group è situato in Commonwealth of Dominica è un gruppo imprenditoriale con progetti in diversi settori e con paesi con trend in crescita i settori in cui maggiormente coinvolge il gruppo al settore immobiliare quello delle materie prime pubblicità online 4Rpads in King Kong World of Dominica e-commerce, sviluppo e fabbricazione dei prodotti propri certificazione ISO e sale di scommesse sportive in internet dove opera 4Rpads? Principalmente nasce in Spagna il 50% dei membri sono in Spagna e come ben vedrete si può fare in qualunque parte del mondo nel ranking di Alexa oggi al 18 aprile 2017 4Rpads si trova al posto 8.907 al mondo e il sito al 659 posto più trafficato in Spagna la visione di 4Rpads è arrivare al milione di utenti per il 2017 sappiamo dove stiamo andando e sappiamo che gli ostacoli fanno parte di qualunque business online ma noi stiamo andando avanti e siamo contenti del percorso che stiamo facendo la nostra missione è quella di aiutare a migliaia di persone a generale guadagno online la pubblicità online è in crescita e sappiamo per questo che la missione si può compiere perché siamo su una nicchia giusta, una nicchia della racconta pubblicitaria l'obiettivo 4Rpads è essere proprio nel top 1000 nel ranking di Alexa e sarà tra le prime 1000 aziende più trafficate nel mondo 4Rpads è in continuo miglioramento e costantemente innovando quali sono i prodotti o servizi che offre 4Rpads? principalmente i servizi di pubblicità con e senza le commissioni condivise questi che vi leggo adesso sono gli annunci senza le commissioni di condivise ovvero 4Rpads non condivide questo con i membri che sono i login ads, gli annunci di finestre emergenti che vediamo ogni qualvolta entriamo nel back office di 4Rpads i ptc che sono gli annunci a pagamento per visita dove garantiamo visitatori perché questi guadagnano ogni volta che si fa un click e si guarda l'annuncio i paperclick che sono annunci che l'annunciante dopo aver acquistato un pack attraverso i banners si esauriscono ogni volta che un utente fa un click e visita il sito web finale all'annunciante vi viene scalato dal saldo del pack ogni volta che un visitatore veramente entra nel sito web e poi ci sono gli annunci di testo che sono gli annunci che non hanno nessun tipo di grafica solo testo e gli annunci di banner che sono gli annunci dove la gente guarda il banner per un determinato numero di giorni e questi possono essere statici o animati ora cosa sono le commissioni condivise dei 4Rpads principalmente sono condividere una percentuale del fatturato di 4Rpads per i clienti che abbiano acquistato packs di commissioni condivise che noi chiamiamo packs e che abbiano come requisito visto 8 annunci al giorno o in sostituzione acquistato un pack vacanze nel caso del pack di 10$ l'azienda di tutti i pack di 10$ venduti condivide il 76% della fatturazione in commissioni equamente tra tutti i clienti che precedentemente abbiano acquistato packs di 10$ e siano qualificati per essere qualificato bisogna acquistare dei packs chiaramente ma anche vedere 8 annunci al giorno con le commissioni condivise posso annunciare il mio business e vedere nuove opportunità e ricevere commissioni ogni 30 minuti cosa riceve il cliente per l'acquisto di un pacchetto di commissioni condivise? principalmente visite al proprio sito web i pacchetti contengono 50 visite per annunciare altri business o siti web e commissioni condivise ogni 30 minuti vuol dire che 48 volte al giorno ogni 30 minuti la fatturazione globale dell'azienda si condividono equamente una percentuale tra i membri che abbiano acquistato pacchetti di packs di commissioni condivisa e siano qualificati al wallet 1 ci sono due wallet attualmente il wallet 1 che è il portafoglio dove è stato vigente fino a ottobre del 2016 e si possono acquistare pubblicità di qualunque tipo ad eccezione dei packs nuovi di commissioni condivisa e poi in questo wallet si possono fare prelievi ogni volta che cioè siano evase un po' cioè liquidati tutte le commissioni delle richieste di prelievi in sospeso al wallet 1 si possono acquistare invece nel wallet 2 qualunque tipo di pubblicità e anche i nuovi pack di commissioni condivisa i prelievi si possono fare tra le 24 e 72 ore lavorative e si possono acquistare tra 10 e 2.000 dollari al giorno con i pack di commissioni condivisa possiamo fare riassumerlo in questo modo nel wallet 2 l'unico pack vigente è quello di 10 dollari ogni pack di 10 dollari include 50 visite ed ha un ritorno del 130% il 100% va al cash e non c'è obbligo di riacquisto il massimo è del 1% al giorno questo è il rendimento massimo che possiamo avere per i packs di commissioni condivisa il pack matura al 130% il 100% va in cash e non c'è obbligo di riacquisto e si condivide tra il 70% 70-80% delle commissioni cioè del fatturato che si traduce poi in commissioni in proporzione agli acquisti di packs la seconda modalità per fare business è attraverso la rete per colui che decide di fare un team di lavoro e vendere packs di commissioni condivisa 4i Pets lascia per il primo livello senza un limite di affidati diretti il 5% e dal secondo al decimo livello l'1% totalizzando un 14% di commissioni alla propria rete per fare un incentivo di produzione e promozione 4i Pets ogni ultimo giorno del mese fa una chiusura con quelli che hanno fatturato maggiormente e alla prima posizione le riconosce un premio di 500$ alla seconda uno di 250 alla terza di 125 alla quarta di 60 alla quinta di 40$ alla sesta posizione di 30 alla settima di 25 all'ottava di 20 alla nona di 15 e alla decima di 10$ come si sostiene il business di 4i Pets? principalmente attraverso la vendita di pubblicità di commissioni condivisa in secondo luogo la vendita di pubblicità senza le commissioni condivise attraverso un piano vacanze ed AdSense che Google pianifica qua dentro e attraverso come quarto punto la copertura di un gruppo imprenditoriale diversificato per colui che volesse iniziare oggi quello che deve fare è registrarsi con la persona che ti ha invitato e lo fai aggiungendo fondi da finanza aggiungi fondi con coin payments in bitcoins poi vai a acquistare pax e una volta che l'hai caricato saldo acquisti questi pax di commissioni condivisa visiti il tuo siti web per essere qualificato lo fai da finanza comprare pax visiti il siti web di annunci e vedi gli annunci e poi aggiungi i tuoi annunci e riscuotri attraverso coin payments e i prelievi consentiti sono tra le 24 e le 72 ore lavorative da lunedì a domenica da 10 a 2 mila dollari con coin payments sempre in bitcoins per colui che volesse dare maggiore informazione la persona che ti ha invitato è la persona che credo sia già stia già sviluppando il business è quella che ti darà l'informazione di necessità nel caso non trovi questa informazione non sei venuto dalla mano di nessuno puoi andare al menu Tutorials nella pagina principale di 4pads.com o domande frequenti nel menu fax che ci sono una serie di domande e risposte però nel menu Tutorials troverai dei video e dei pdf molto ben spiegati che ti aiuterà a capire bene quello che devi fare quindi io direi che per oggi è tutto questa presentazione giunge al termine come vedete il business è molto semplice va molto bene io sono contento mio nome è Gisar Mugagliardi sono un affiliato di 4pads come tutti voi vi do appuntamento martedì prossimo alla stessa ora vi auguro buon FAP un buon lavoro e una buona settimana a tutti ci vediamo martedì prossimo per una nuova presentazione dell'opportunità di 4pads arrivederci a tutti